Sono diventato un vero giocatore non quando ho perso, ma quando ho vinto. Ecco lì è cominciato l'inferno. È la partenza che lega le storie di alcuni pazienti in cura dalla dipendenza, da gioco d'azzardo, testimonianze raccolte da Michele Santeramo nell'ambito della grande scommessa, il progetto di prevenzione promosso dall'ASLBT e attuato dal Teatro Pubblico Pugliese. Quelle storie sono diventate un vero spettacolo teatrale dal titolo Un Giocatore, andato in scena per la prima nazionale al Chiostro San Francesco ad Andria. Un coraggio fortissimo che ci vuole per ammettere le proprie debolezze. Il testo ruota molto su questo, cioè su questa domanda. Quanti di noi sono disposti ad ammettere le proprie debolezze? Il problema è avere la forza di affrontarle, di riconoscerle. Loro ce l'hanno fatta e per me è stato complicato perché ad un certo punto durante la scrittura io mi sono dovuto chiedere onestamente rispetto a me stesso quali fossero le mie debolezze e per quale motivo io stesso non decido di affrontarle. Io spero che questo possa essere il compito lasciato da ciascuno spettatore. Una via per uscirne c'è perché c'è sempre una speranza da cui la necessità di far emergere il sommerso, cioè tutta quella fascia di popolazione che per stigma o per reticenza non arriva ai servizi pubblici. Vogliamo lanciare un messaggio di speranza ma nello stesso tempo anche di presenza del servizio con comunicazioni alternative, quale meglio di quella del teatro che può avere un eco anche sulla fascia che ci sta particolarmente a cuore, quella giovanile particolarmente esposta, ahimè, a questo tipo di problematica. Oltre che attenzione particolare avremo sulla fascia donne. Lo spettacolo sarà replicato nei prossimi mesi anche nelle città di Barletta, Trani, Canosa e Biceglie. L'arte e la cultura, spiega Paolo Ponzio, presidente del Teatro Pubblico Pugliese, aiutano l'essere umano a ripensare e riflettere su di sé, interrogando se e la realtà con uno sguardo più critico. Un giocatore, un giocatore, non il giocatore come nel testo di Dostoievski, proprio ad identificare il fatto che il giocatore puoi essere tu, posso essere io, possiamo essere tutti. E tutti abbiamo bisogno non soltanto della possibilità di rifarci una vita, di giocare in un altro modo perché la vita possa diventare diversa, diventare più bella, diventare a colori e non in bianco e nero.